pausa ci siete eccoci qua ragazzi area youtube convento sabato sera siamo qui per festeggiare e allora auguri veronica quanti anni 18 18 anni quella fatti vedere facci una mini sfilata qui davanti eccola qua ta 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 ecco voi veronica 18 anni da ecco qua tipica diciottenne con la coroncina come mai la coroncina è la vostra principessa ma è la principessa quella sul pisello a quella tradizionale attenzione perché quando ho detto pisello il ragazzo lì si è agitato è il nostro ragazzo di vipi teno sud sud che ti chiami come ti chiami pauri dove vai stai calma a stai attento a non stare dietro davanti a maurizio di vipi teno sud che che se si esalta un attimino ti dà delle cose sulla schiena che fanno malissimo è proprio attenzione attenzione e siete tutti di vipi teno sud più o meno più o meno più o meno a un gruppo visto praticamente abbiamo le impellicciate di qua abbiamo maurizio il carichissimo lì in mezzo abbiamo il ragazzo che ha alzato la cresta eccolo qua abbiamo la nostra festeggiata eccola qua e abbiamo dietro i due ragazzi vestiti di nero per per non farsi riconoscere per muoversi nell'ombra ai blues brothers abbiamo anche quindi abbiamo dei cantanti abbiamo dei cantanti incredibili stasera proprio tutti qua per te per il tuo compleanno ti rendi conto a wow 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 e allora cosa ci cantate ragazzi stasera basco rossi allora siete pronti fatemi sognare ragazze fate soprattutto sognare lei che il suo compleanno auguri il prezzo quando arriva volrà via il tempo di inventarsi carico la mia che va e non va, il cavolo non si vende, si regala, vola e si vende da metà, con l'aria, con il sole, con la rabbia, con il cuore, con l'odio, l'amore, quattro parole, io sono ancora qua, eh già, eh già, sono ancora qua, fantastici ragazzi, eh, uè, si muove, si muove, si muove, in fantasia, è lo che si fa, è il cavolo, sentiti la vita che vuoi tu, resto sempre in bilico, due no, su per giù, più giù, più su, più giù, più su, più giù, più giù, più su, più giù, più su, con il cuore che fate più forte, la vita che va e non va, con quello che non si prende, quello che non si dà o l'anima che si arrende alla malinconia un po' pianto, poi rido, poi non più rido cosa succederà col cuore che batte più forte la notte ha già passato ma il diavolo non si vede io sono ancora qua e già, e già il diavolo non si vede fatevi un auto applauso perché siete stati veramente incredibili proprio una cosa pazzesca proprio voglio il vostro cd appena fate il cd io lo vorrò costa tanto costa anche tanto oltre avervelo fatto fare costa anche tanto il cd cavolina ragazzi ma mettiamo in mezzo la festeggiata mettiamola in mezzo dai sì lì in mezzo ragazzi abbracciamola abbracciamola e facciamo ho detto abbracciamola non spalpognamola ha appena 18 anni la ragazza insomma è già bravo tu sì che ne sai allora ritorniamo in quella posizione che facciamo il gran finale nessuno che l'abbraccia più prima che si poteva spalpognare tutti adesso ecco qua abbracciamola ok pronti ragazzi facciamo gli auguri 1,2,3 abbracciamola